Benvenuti alla 540esima edizione della fira di San Giuseppe a Corte Maggiore in provincia di Piacenza, una fiera dedicata all'agricoltura. Luigi Merli, sindaco di Corte Maggiore, questa manifestazione è storica per la sua città e per i suoi cittadini? Sì, una manifestazione storica, 540esima edizione, la prima edizione fu del 1480, quindi davvero un evento che per Corte Maggiore rappresenta la storia, rappresenta anche l'inizio della primavera perché la fiera di San Giuseppe è la prima della provincia e quindi apre la stagione primaverile, apre la stagione dei lavori anche nelle aziende e nei campi. Quindi è bello vedere dopo due anni di stop, di pandemia forzata, tanta gente, ci sono tanti espositori quest'anno, l'abbiamo riportato tante macchine agricole che erano venute un pochino a mancare nelle ultime edizioni e questo ci fa piacere perché la fiera è soprattutto agricoltura. Mostra di trattori d'epoca ieri sera hanno sfilato per il paese, è stato un momento anche divertente. Tante cose organizzate devo dire in poco tempo effettivamente perché fino a fine gennaio i contagi erano effettivamente ancora molto alti, poi per fortuna si sono ridotti davvero nella prima settimana di febbraio e lì abbiamo deciso di ufficializzare l'allestimento della fiera. Gianluigi Repetti ex sindaco di Corte Maggiore nonché una presenza importantissima per la fiera di Corte Maggiore di San Giuseppe perché è dagli anni 80 che la segue con tantissimo amore. Negli anni 80 mi hanno dato l'incarico, ero assessore, assessore della fiera e ho incominciato che l'avevo portato con tanta voglia di farle emergere perché prima ero in un modo, oggi è tutta un'altra cosa e sono arrivato a portarlo che io pensavo che fosse inter-regionale perché avevamo, lei oggi sta vedendo la fiera di Corte Maggiore, allora era raddoppiata, erano tempi diversi. Ora... Com'è cambiata secondo lei? Quest'anno dopo dieci anni che non facevo più la fiera sono tornato in fiera e ho cercato di mettere a frutto la vecchia e la nuova. La nuova ho adoperato un sistema nuovo, cioè non sono mica più i venditori ma ci sono anche quelli che i contoterzisti diciamo che sono quelli che danno l'immagine su tutta la nostra bassa e così ci hanno aiutato, ci hanno aiutato, infatti abbiamo delle dimostrazioni di macchine, innovatrici, bellissime, abbiamo fatto tornare il consorzio agrario, siamo stati capaci di farlo tornare e anche lì è stato un successo. Ezio Marocchio, organizzatore della 540esima edizione della fiera di San Giuseppe di Corte Maggiore, siete andati in scena nonostante le incertezze. Esatto, esatto, all'inizio dell'anno ancora c'erano un certo numero di contagi e quindi c'era il problema che forse non si potesse realizzare neanche quest'anno, invece siamo partiti, sebbene tutti i problemi, c'era anche il problema del Luna Park che avevamo paura con gli assembramenti di non poterci riuscire, poi abbiamo organizzato il tutto, organizzato Luna Park, organizzato tutti gli stand, presi conto terzisti perché abbiamo voluto dare un'immagine molto più agricola riportando i trattori sulla via principale e quindi sono contento perché ieri pomeriggio nel passare c'era felicità da tutte le parti. Stefano Boselli, sindaco di San Pietro in Cerro, un comune limitrofo a Corte Maggiore, questo è un momento difficile a livello storico ma anche a livello di cambiamenti climatici, siete preoccupati? Sì, siamo molto preoccupati perché non ci sono precipitazioni, però vabbè il tempo fa un po' per se stesso, quello che non ti dà prima ti dà dopo, è la preoccupazione più grossa che comunque c'è, quella dell'instabilità climatica, forse un pochino prima quella economica, ecco abbiamo un pochino più pensiero su quello. Marco Crotti, presidente del consorzio agrario Terre Padane, a livello di innovazioni cosa proponete qui in fiera? Terre Padane in questi anni è fortemente specializzato su tutto quello che è il processo del cosiddetto precision farming con la vendita dei trattori, delle macchine con l'agricoltura 4.0 che sono il futuro in termini di innovazione, in particolare Terre Padane è specializzatissimo sulla gestione dell'acqua con gli impianti di fertirrigazione, subirrigazione e controllo satellitare da remoto dell'irrigazione che consentono forti risparmi di acqua, di energia, quindi molto sostenibile ma soprattutto una grande e migliore qualità delle produzioni perché riusciamo a garantire la risorsa dell'acqua che oggi purtroppo sta mancando perché se oggi dobbiamo dire una criticità è quella che la siccità sta preoccupando e quindi noi stiamo lavorando per razionalizzare al meglio questa risorsa. Da livello geopolitico tutti noi conosciamo le tensioni che ci sono, un altro aspetto che spaventa tantissimo oltre al discorso dell'energia, quindi gas e energia elettrica, l'altro discorso è quello che riguarda i cereali. C'è molta attenzione su questo settore, voi come vi state muovendo e quali sono le vostre preoccupazioni? Ci stiamo muovendo come terre padane, come sostegravi per riuscire a garantire la fornitura a dei concimi e devo dire che abbiamo fatto operazioni di pre-campagna già nello scorso ottobre importanti, fortunatamente per cui abbiamo acquistato concimi per i nostri soci e dei prezzi adeguati rispetto a quelli attuali anche perché oggi c'è un prezzo che è triplicato ma talvolta non c'è neanche la disponibilità della materia prima per il concime. L'altra tensione importante è il costo del mais, oltre al costo del grano, ma dico in particolare il mais e soia perché stanno pesando gravemente sulle aziende zootecniche e su questo ci siamo organizzati per riuscire a garantire un servizio, una fornitura per quanto possibile ai migliori condizioni. Sta succedendo una cosa strana perché comunque i prezzi dei cereali e un altro prezzo di un prodotto tipo il girasole che ha raddoppiato il suo valore sta diventando una cultura interessante per la nostra agricoltura, talvolta addirittura in sostituzione del pomodoro perché la mancanza di acqua potrebbe favorire le superfici al girasole che è una pianta poco idroesigente con un prezzo minimo garantito molto interessante. Per cui questo conflitto, che non sappiamo quanto si protrarrà, potrebbe apportare dei cambiamenti radicali importanti anche sull'assetto della nostra agricoltura. La pianura padana è un'ottima culla, ma non solo tutta l'Italia, per la produzione di cereali, di frumento e mais, però diciamo che il territorio di punta è proprio la pianura padana. Il fatto che tanti di questi cereali, non nascondiamoci, vengano destinati sia all'allevamento intensivo che ai biogas e quindi vengono, tra virgolette, sottratti a quello che è l'alimentazione umana, cosa ne pensa? Credo che bisogna continuare ad investire su energie rinnovabili tipo l'idroelettrico, il fotovoltaico, l'eolico e credo che in campo energetico ci siano state troppe prese di posizioni troppi no che oggi ci fanno dimostrato che abbiamo perso le grandi opportunità, perché noi stiamo facendo agricoltura sostenibile al 100%, ad esempio quando si parlava di acqua, poi per i no detti oggi si parla di riaprire le centrali a carbone, quindi vuol dire che c'è un'incongruenza molto seria e vuol dire che lì c'è una sconfitta di un sistema che non ha saputo investire su una dipendenza energetica adeguata per le proprie potenzialità. Filippo Arata, presidente AINPO, sezione ortofrutta per quanto riguarda l'agricoltura, un settore che forse è stato messo parecchio in difficoltà dalle importazioni estere, come difendiamo il nostro paese? Lo difendiamo sicuramente con la qualità dei nostri prodotti, con la rintracciabilità, con la salubrità e con l'attenzione che mettiamo sempre nel produrre i nostri prodotti pensando poi al consumatore finale che li andrà a utilizzare. Quindi grande attenzione, grande sicurezza alimentare in queste produzioni che stanno soffrendo anche questo momento climatico di siccità molto difficoltoso, in particolare il pomodoro dell'industria, e quindi siamo molto preoccupati per la divenire di questa stagione che per adesso non promette niente di buono. Sicuramente il cambiamento climatico è quello che appunto stava dicendo lei, periodi di siccità o estrema pioggia, anche gelate, che questo va a impattare sicuramente sulla produzione finale. Quest'anno cosa ci dobbiamo aspettare da ora, quello che stiamo vedendo? Allora, da ora l'inizio è sicuramente negativo perché i campi sono super asciutti, le riserve idriche, specialmente nel Piacentino, sono molto molto scarse, le dighe sono basse e quindi ci sono dei problemi, se va avanti così per l'approvvigionamento dell'acqua per l'irrigazione, e quindi la cosa sicuramente è molto molto difficoltosa. Ad aggiungersi a tutto ciò, a questo quadro già catastrofico, sicuramente anche la presenza di animali che sono infestanti, come gli insetti che arrivano anche da parti ben lontane rispetto a casa nostra, e questo ovviamente si va a controbattere con dei prodotti che vadano a limitarne la proliferazione. Tutto questo però va comunque calibrato per non andare a inficiare neanche troppo sul prodotto finito. Sì, ma per affrontare la problematica di questi insetti, già da tempo stiamo abbandonando i fitofarmaci chimici e stiamo passando all'uso degli insetti positivi, cioè quelli che mangiano gli insetti negativi, quindi stiamo facendo dei lanci con i droni di fitoseidi, di cose naturali. E si ottengono risultati? Diciamo che man mano si migliora sempre di più e i risultati ci sono, anche perché dobbiamo avere un'attenzione massima ai costi di produzione che con tutta la problematica che c'è anche a livello mondiale stanno lievitando in modo sensibile, sono aumentati del 25% rispetto all'anno scorso e quindi è una problematica che si aggiunge a quella del clima e a quelle che ci sono normalmente tutti gli anni. Dottor Alberto Campanini, medico veterinario libero professionista è responsabile sanitario da anni del centro Tori GB Genetics di Sospiro in provincia di Cremona che si dedica alla produzione di seme congelato per la fecondazione artificiale bovina e bufalina. Insieme a lei vorremmo capire, nonostante siamo qui alla fiera e non sia presente la zootecnia di animali, però un aspetto importante ovviamente che si collega a questa realtà che è l'agricoltura e ovviamente l'allevamento. Ci sono novità per quanto riguarda il seme congelato? Grandissime, ho trasferito, quello che faccio adesso come alcuni sanno, informo l'acqua con delle frequenze, faccio terapia, faccio biorisonanza con acqua informata, con dei computer, e ho trasferito queste frequenze via acqua anche al materiale seminale, ma si va molto più in profondo. Per esempio gli ultimi due Tori che sono stati acquistati il 21 dicembre 2021, quindi tre mesi fa, sulla base già della fotografia che il centro, che è stato un'asta, questi Tori erano in vendita a Sinè, un centro di materiale seminale in Belgio, a Sinè hanno fatto questa asta il 21 dicembre, hanno informato noi, un mese prima, sui 13 Tori che erano all'asta. E io con i miei contatti, medici di umana, che lavorano su queste frequenze, già con la fotografia singola dei 13 Tori che ci hanno mandato, io le ho fatte stampare, le ho allargate, le ho mandate a un medico, un mio amico, molto affermato, di umana, e lui, e gli ho fatto una domanda, tu mi fai la decodifica frequenziale della potenza spermatica di questi 13 Tori e mi scegli i primi tre, perché non sai come va l'asta, facendo il numero uno il più potente, il secondo appena dopo, il terzo appena dopo il secondo. Lui, ma in giro di tre giorni, ha delle macchine particolari, lavora sulla luce, i campi magnetici e quant'altro, mi ha dato i primi tre Tori. Ho mandato tutto a Giovanni Binotti, che è il proprietario del centro Toro, che era già in Belgio, perché l'abbiamo fatta tirato in ultimo, e gli ho detto, Giovanni, il Toro da prendere è questo qua, se non riesci a prendere l'asta questo, prendi questo, se no prendi questo. Ero riuscito a prendere il primo Toro. Particolare caratteristico, quando è stato là, ha andato, i Belgi sono molto, i Belgi sono molto precisi, ha andato la circonferenza scortale di tutti i 13 Tori. E? Questo qua era quello che aveva la circonferenza scortale più grossa di tutti i 13. Non aveva un'orchite, per carità. Questo è già un'incredibile. Porta a casa il Toro, il Toro ha fatto la quarantena, dove non veniva fatto assolutamente niente, per legge, quindi non è stato toccato così. Il Toro poi è già stato, abbiamo già fatto dei prelievi, e il seme già di per sé è fantastico, lo dice la Cinzia, che è la responsabile dell'analisi del centro Toro, non lo dico io. Adesso questo Toro viene già informato attraverso acqua, ma un 2 o 3 ml sprayzzati in una narice a distanza, di biorissonanza finalizzata all'ulteriore miglioramento della potenza spermatica. in più queste fiale verranno aumentate la concentrazione del 50%, di solito le fiale per legge devono essere 20 milioni di presenze, di cui 10 milioni attivi, 20 milioni di spermatozoi. Qua andremo a 30 milioni di spermatozoi, quindi questo Toro farà solo questo seme particolare, ma la chicca, la cosa non finisse qua, l'informazione, passa anche con gli stessi macchinari, e ho sottoposto i flaconi di maestro diluitore, siccome ogni eiaculato viene diluito. Ci sono dei maestri diluitori standard sul mercato e tutti attingono quelli. Io ho potenziato il maestro diluitore, quindi il terzo passaggio, che diluirà quel seme lì. Come abbiamo sentito, un aspetto molto importante di questi ultimi anni di fiera è l'arrivo dei terzisti, perché i terzisti hanno un ruolo fondamentale in agricoltura. E qui abbiamo un'azienda molto importante del territorio, la nuova Terzi, abbiamo qui il rappresentante legale Simone Bolsi. Parliamo un attimo di questo aspetto appunto dei terzisti, dell'importanza che hanno nel settore agricolo. Sì, noi abbiamo deciso di partecipare alla 540esima fiera agricola di Corte Maggiore per presentare questa macchina diciamo innovatrice, gaspardo ottofile, quale può seminare mais, sorgo, girasole, molto funzionale e può seminare anche sui terreni con minima lavorazione e anche su sodo. Abbiamo messo un concimatore liquido anteriore per poter oltre al concimatore granulare che abbiamo sulla macchina per incrementare le produttività di crescita del prodotto. Il tutto con un unico passaggio. Perché è importante cercare di ottimizzare in un unico passaggio più lavorazioni? Sia per rispettare la terra che anche per ottimizzare proprio i tempi di lavoro o ci sono altre motivazioni? No, l'abbiamo fatto soprattutto per un unico passaggio per avere riduzione dei costi che con un unico passaggio si possa fare al tutto. Ecco, sicuramente il vostro lavoro potrà essere messo in difficoltà da questo caro da questi aumenti che sono arrivati che hanno colpito il nostro paese soprattutto per quanto riguarda il gasolio agricolo che in questi giorni ha subito un'impennata. Questo vi preoccupa? Sì, questo in quel periodo qua ci ha un po' toccato specialmente la lavorazione che ci comporterà costi eccessivi quindi dovremmo valutare come riuscire ad ammortizzare i costi e è per questo che come dicevo prima abbiamo fatto una macchina polivalente che con un unico passaggio può diciamo far tutto. Lei è veterinario ma anche grande esperto e appassionato oggi è qui in fiera cosa ne pensa? Allora io so ho 63 anni sono 56 anni che vengo in fiera e non si può mancare quando ero piccolino una volta mi ricordo che avevo una mezza febbre e mio zio mi prendeva sempre su lui e fa stai bene tutto a posto a postissimo zio in fiera ci si va. Dottore una presenza importante quest'anno è quella del ritorno di Repetti e ne è venuto anche lei l'ha conosciuto e ha stravolto sicuramente la fiera anche in questa edizione Repetti è una persona contagiosa io l'ho conosciuto 4-5 giorni fa in occasione di sistemarci per questa fiera qua e mi piace il nuovo taglio che lui ha voluto dare alla fiera che era un taglio naturale trasformandosi in fiera di concessionario di macchina agricola in fiera di territorio la fiera di territorio è una fiera dove i contotercisti e le imprese agromeccaniche presentano quello che fanno mi sono posizionato di fronte a questa splendida metitrebbia per dire una cosa che penso sia condivisa da tanti ma io sono 30 anni che ce l'ho addosso come dire e la voglio dire e mi riferisco alla problematica delle nuove macchine agricole da raccolta alle metitrebbie specialmente per il frumento oggi il grano viene sempre si parla del grano per i prezzi non prezzi non ce n'è come facciamo oddio l'Ucraina oddio la Russia allora la prima cosa è favorire il movimento che poi per la raccolta del frumento che dura esageriamo 15 giorni io lo dico da 30 anni le forze dell'ordine in o secchio dovrebbero essere i prefetti con la corregione invece di porre dei limiti al transito dovrebbero fare scorta davanti e dietro alle metitrebbie perché una metitrebbie raccoglie questa qua non lo so ma minimo 150 questa qua farà anche di più 150 quintali di frumento all'ora questa qua farà 200 quintali di frumento all'ora e il 20% del lavoro in questi 15 giorni viene perso in transito delle macchine cioè questa barra qua deve essere spostata deve essere staccata dalla metitrebbia per il 90% qualcuno si piega ma è sempre un trasporto difficoltoso si richiude ma è sempre un trasporto difficoltoso e dovrebbe essere obbligo delle istituzioni a favorire il transito delle macchine per la raccolta perché il frumento che è già l'immaturo non si può perdere perché non riusciamo a perdere tempo in strada ci dovrebbero essere le forze dell'ordine in serene proficua convivenza coordinate dal prefetto dal presidente della regione per un periodo di 15 giorni e i terzisti non dovrebbero perdere tempo a staccare queste barre qua a fermare delle macchine che vanno a produzione perché l'esperienza l'anno scorso per 3-4 giorni si sarebbe perso con la grandine che è venuta a luglio del 2021 era finita la campagna della raccolta da 3-4 giorni allora dovrebbero e dovrebbe essere girata il contrario a volte si sente dire sequestrato una metita in strada cioè una cosa intollerabile benissimo allora a luglio non c'è la pioggia di marzo se sono sono temporali e temporale grandine ma basta anche il vento quando il frumento è pronto per farlo perdere le forze dell'ordine coordinate non so da chi debbano aprire la strada loro e i cittadini dovrebbe essere un dovere civico favorire il transito della metitrebbia perché la metitrebbia che raccoglie 1500-2000 quintali di frumento al giorno se viene un temporale per un giorno o due perché non hai raccolto ma hai perso tempo in strada a staccare delle barre a volte basta due chilometri ma non riesci devi andare in strada e devi staccare e quindi io sono abbastanza calorato per questa cosa qua che la volevo dire Francesca Bertoli Merelli responsabile donna impresa a Piacenza sicuramente un altro aspetto importantissimo è quello di sostenere la donna nell'imprenditoria dell'agricoltura e soprattutto anche oggi qui in fiera sono tante le donne che hanno aiutato a portare avanti lo stand e la manifestazione sì esattamente noi insieme abbiamo insieme ovviamente il gruppo dei giovani e dei senior abbiamo aiutato e partecipato a questa attività di stamattina quindi allestendo questi gazebo e per questa iniziativa ovviamente molto importante di oggi e noi sì io rappresento quelle che sono le donne impegnate in agricoltura che lo fanno molto volentieri che hanno uno spirito di servizio come appunto partecipanti a tutte le iniziative che Coldiretti fa e quindi siamo molto contenti di essere qui anche oggi bene sicuramente la donna in agricoltura ha sempre partecipato forse come ruolo più secondario devo dire che negli ultimi tempi le donne che si sono avvicinate a questo settore si danno veramente da fare e non sono così tanto poi in secondo piano assolutamente in Emilia Romagna siamo un quarto che abbiamo le aziende agricole e soprattutto siamo in diversissimi settori quindi è una mia soddisfazione poi rappresentare qua a Piacenza queste donne che veramente si danno da fare in ogni ambito per cui è veramente la soddisfazione Gian Maria Cabrini coordinatore dell'Istituto Marcora di Corte Maggiore che tipo di scuola è la vostra? La nostra scuola è un istituto professionale per l'agricoltura di indirizzo agroalimentare che forma i ragazzi e li prepara ad entrare nel mondo del lavoro a partire già dal terzo anno grazie al conseguimento della qualifica professionale la nostra scuola essendo un istituto pro superiore consente di conseguire al quinto anno il regolare diploma di scuola superiore Quali sono le discipline andiamo più nello specifico che vengono insegnate ai vostri ragazzi? Beh, oltre alle classiche materie italiano, matematica e inglese qui si aggiunge le discipline specialistiche del settore agrario sia teoriche che pratiche i ragazzi acquisiscono il certificato di alimentarista e la certificazione base della sicurezza e tutta questa offerta formativa viene integrata anche dall'alternanza scuola-lavoro dove i ragazzi imparano proprio facendo dalle esperienze lavorative sul campo quindi si impara anche facendo Siamo in conclusione della manifestazione sicuramente quello che abbiamo compreso sono le grandissime difficoltà che devono affrontare gli agricoltori al giorno d'oggi perché sono veramente tante tra i cambiamenti climatici la crisi di acqua le gelate improvvise e poi a livello anche geopolitico siamo tutti consapevoli di quello che sta accadendo quindi è un settore che sicuramente va potenziato non va sottovalutato e deve essere un settore che vada di pari passo con la tutela dell'ambiente io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento arrivederci grazie a tutti grazie a tutti